Salve a tutti e benvenuti a Watch & Work. I tutorial video con T-Tec per meccanici d'auto. Qui scoprirete come sostituire la cinghia dentata su diversi motori, in modo facile, sicuro e rapido. I video illustrano le principali fasi di lavoro e si rivolgono ai professionisti. Durano qualche minuto, ma è tutto tempo ben speso che riguadagnerete durante il montaggio. Mi chiamo Stefan Mayer e in ogni puntata vi mostrerò il motore di un veicolo diverso, di quale vi parlerò oggi. Seguite! Oggi vi ho portato una Ford Focus del 2005. Abbiamo qui un motore TDCi da 1,6 litri e 66 kilowatt, contrassegnato dalla sigla HHDA. Ci servono il kit con pompa dell'acqua CT 1092 VP1, lo smorzatore di vibrazioni torsionali VD1094 e il set di montaggio MS08. Gli utensili speciali sono contenuti nel Toolbox V04. Prima di regolare il motore sul punto morto superiore, dovete smontare la carenatura superiore e inferiore della cinghia dentata. A tale scopo, smontate per prima cosa lo smorzatore di vibrazioni e riavvitate quindi la vite affinché sia possibile far girare il motore. Per la regolazione del punto morto superiore, dobbiamo tenere in considerazione tre marcatori. Abbiamo uno spinotto da inserire in basso sull'albero motore, uno sulla pompa del carburante a ore 5 circa e uno in alto sulla ruota dentata dell'albero a cam. Prima di poter allentare e rimuovere la cinghia dentata, dovete ancora smontare il sensore e la guida per la cinghia. Ora dovete allentare la vite sul rullo tendicinia, dopodiché potete rimuovere la cinghia. Attenzione ora! Per la pompa dell'acqua utilizzate solo la guarnizione in dotazione, senza applicare pasta aggiuntiva. La pasta può staccarsi, finire sotto alla pompa dell'acqua o intasare il circuito di raffreddamento. Utilizzate inoltre solo liquido di raffreddamento nuovo e lavate il relativo circuito. Ora passiamo alla sostituzione dei componenti. Verificate che gli altri ingranaggi non siano danneggiati. Per il montaggio del nuovo rullo tendicinia, assicuratevi che la nostra U sia posizionata tra questi perni. Calzate la nuova cinghia dentata in senso orario, cominciando dalla ruota dentata dell'albero motore e, quando la cinghia è montata, rimuovete la copiglia dal rullo tendicinia. Dopo aver tolto la copiglia, ruotate la brugola in senso anti-orario, fino a quando la linguetta di regolazione non viene a trovarsi nella rientranza. Dopo aver correttamente regolato la tensione della cinghia dentata tramite il rullo tendicinia, rimuovete i tre utensili di bloccaggio. Fate quindi compiere dieci giri in avanti al motore. Per rimontare il sensore, state attenti a non toccare l'anello del sensore. Dall'altro lato si rimonta la guida della cinghia. Per montare il nuovo smorzatore di vibrazioni, fate attenzione alla corretta posizione di montaggio. Qui abbiamo una scanalatura e qui una linguetta, che devono innestarsi affinché il disco poi rimanga nella posizione corretta. Prima di montare il nuovo smorzatore di vibrazioni, riapplicate il rivestimento della cinghia. Per montare il nuovo smorzatore di vibrazioni, utilizzate la nuova vite compresa nel set di montaggio MS08. Stringetela con una coppia di 30 Nm più 180 gradi. A tale scopo è necessario bloccare il volano sulla trasmissione mediante questo spinotto. Bene, ora dovete solo terminare di montare il motore. Fate attenzione alle indicazioni del produttore, in particolare per quanto riguarda le coppie. Ricordate non stringete troppo. Prima di rimettere in strada il gioiellino che avete per le mani, non dimenticate il sigillo di qualità. Ricordatevi del nostro adesivo con gli intervalli di sostituzione e collocatelo in una posizione ben visibile all'interno del vano motore. Ricordatevi del nostro adesivo con gli intervalli di sostituzione e collocatelo in un'intervalli di sostituzione. Grazie a tutti.